questa voglia di far crescere sempre di più la nostra cooperazione su alcuni punti. Penso ovviamente al dialogo continuo e alla cooperazione in materia di politica estera e di politica di difesa, alla luce del contributo fondamentale che entrambe le nostre nazioni hanno dato e stanno dando per preservare la pace e la stabilità, ma penso anche all'energia, altro tassello fondamentale della politica strategica italiana e non solo italiana, alla scienza, penso all'innovazione, penso agli strettissimi rapporti tra le nostre società, alla sicurezza, alla lotta al crimine e ovviamente al tema del governo dei flussi migratori, del contrasto all'immigrazione illegale di massa. È un tema del quale abbiamo ampiamente discusso questa mattina. ogni settimana migliaia di migranti attraversano il Mediterraneo per raggiungere l'Italia, per entrare illegalmente in Europa. Molti di loro attraversano anche la manica per arrivare nel Regno Unito. È chiaramente un fenomeno che interessa tutto il continente europeo. Con il Primo Ministro Starmer siamo d'accordo sul fatto che la prima cosa da fare sia intensificare la lotta al traffico di esseri umani, farlo unendo molto di più gli sforzi, lavorando a una maggiore cooperazione di sicurezza, una cooperazione tra le nostre forze di polizia, tra i nostri servizi di intelligence, tra le nostre autorità giudiziarie e puntando al cuore di questo traffico. Avrebbero detto due grandi giudici, antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, follow the money. Rincorri i soldi, segui i soldi se vuoi colpire le organizzazioni criminali al loro cuore. È un approccio che Italia e Regno Unito hanno anche condiviso già in ambito G7, quando abbiamo deciso di dare vita a una coalizione internazionale, come sapete, contro i trafficanti di esseri umani, con l'obiettivo di mettere a sistema gli sforzi di ciascuno per contrastare queste organizzazioni che lucrano sulla disperazione delle persone. Entrambi riteniamo che sia fondamentale continuare a massimizzare la collaborazione tra i partner europei e globali, così come siamo d'accordo sul fatto che per questo scopo si debbano utilizzare più e meglio anche realtà come Interpol e Europol, che è una delle questioni che stiamo discutendo per capire come si possano mettere meglio a sistema anche questi strumenti dei quali disponiamo nella lotta al crimine organizzato. Il secondo obiettivo, come voi sapete, che il Governo italiano pone da sempre è affrontare le cause profonde della migrazione per garantire il diritto a non dover migrare, anche con una attenzione nuova, completamente diversa verso il continente africano, che è, come voi sapete, un obiettivo che presuppone la capacità di offrire un nuovo diverso modello di cooperazione con le nazioni di origine, con le nazioni di transito dei flussi migratori, coinvolgere anche sul fronte migratorio. Vogliamo, tra le altre cose, continuare nel solco della già profigua collaborazione che Italia e Regno Unito hanno avviato nell'ambito del processo di Roma, attraverso l'attuazione di misure concrete, anche per quello che riguarda i rimpatri volontari assistiti, una delle misure concrete sulle quali noi già lavoriamo insieme e che vogliamo implementare. Siamo anche d'accordo sul fatto che non bisogna avere timore ad esplorare soluzioni nuove. Abbiamo parlato del protocollo tra Italia e Albania, che è una soluzione per la quale il Governo della Gran Bretagna dimostra molta attenzione e chiaramente abbiamo offerto tutti gli elementi per comprendere meglio questo meccanismo, che è stata una delle innovazioni portate dal Governo italiano nella politica di governo dei flussi migratori. Le nostre relazioni economiche sono particolarmente intense, lo sono sul piano degli investimenti, lo sono sul piano di comunità solide, c'è una comunità italiana come voi sapete nel Regno Unito che è una delle più grandi comunità italiane all'estero, 600 mila persone, molte imprese che lavorano nel Regno Unito, ci sono molti investimenti britannici qui in Italia, è un lavoro che vogliamo intensificare e continuare a portare avanti. Questa mattina il Primo Ministro ha incontrato diversi amministratori delegati di importanti società sia italiane che del Regno Unito e ci sono molti terreni nuovi che crediamo si possano esplorare. Penso che l'annuncio di investimenti per 500 milioni di euro che arriva proprio oggi non possa che confermare questa volontà di rafforzare la nostra cooperazione bilaterale, di rafforzare il nostro commercio bilaterale. Un interessante tassello di questa cooperazione che vuole concentrarsi soprattutto sulle materie più strategiche e sulle materie più innovative è sicuramente il Global Compact Air Programme che serve come voi sapete a sviluppare congiuntamente al Regno Unito e al Giappone un velivolo di caccia di sesta generazione assolutamente all'avanguardia entro il 2035. È un progetto che chiaramente significa opportunità, che significa crescita, che significa lavoro ma che contribuisce anche a sviluppare l'industria europea della difesa perché l'industria europea della difesa è un problema che ha tutta l'Europa, non solamente gli Stati membri dell'Unione Europea. E sempre guardando all'innovazione lavoriamo a un protocollo sulla scienza che fa parte del più ampio dialogo bilaterale su scienza, innovazione e tecnologia. Come stiamo lavorando insieme per utilizzare al meglio le opportunità di studio esistenti e massimizzare le possibilità di scambio e di formazione dei nostri studenti anche esplorando anche qui soluzioni innovative. L'Italia insomma vuole continuare in questo solido rapporto che ha costruito e che continua a implementare con il Regno Unito e vuole anche accompagnare il Regno Unito, sostenerlo in questo lavoro molto importante che sta facendo per favorire una nuova e più stretta cooperazione con l'Unione Europea nel rispetto chiaramente delle intese che disciplinano i rapporti del post-Brexit. In questo quadro per noi è ovviamente anche prioritaria la tutela dei diritti degli italiani residenti nel Regno Unito che come dicevamo sono una comunità particolarmente numerosa. Abbiamo discusso e vado verso la conclusione anche della cooperazione in ambito Nato e G7, dei temi più importanti sul piano internazionale a partire ovviamente dalla guerra in Ucraina. Abbiamo ribadito, ribadiamo il nostro sostegno a Kiev, sottolineiamo ancora una volta che il nostro obiettivo è mettere fine a questa guerra, aiutare l'Ucraina nel cammino verso un futuro di pace, di libertà e di prosperità. Chiaramente con il sostegno che è necessario oggi e con il sostegno che è necessario alla ricostruzione. Come sapete l'Italia nel 2025 ospiterà la Ukraine Recovery Conference che si è tenuta a Londra nel 2023 e anche questo è un importante elemento della nostra sinergia. Abbiamo parlato di Medio Oriente, concordato sul fatto che non sia più rinviabile un accordo complessivo basato sulla mediazione portata avanti da Stati Uniti, Egitto e Qatar che prevede cessare il fuoco immediato a Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani catturati da Hamas il 7 ottobre. Così come non è più rinviabile un deciso cambio di passo nell'assistenza umanitaria alla popolazione civile, l'Italia fa ancora una volta appello a tutti gli attori coinvolti ed è sempre ovviamente pronta a fare la sua parte. Siamo in prima linea nello sforzo internazionale per scorgiurare un'ulteriore escalation nella regione a partire dal Libano, abbiamo parlato anche di questo, oggi più che mai è necessaria ovviamente una soluzione politica a duratura della crisi che dia nuovo slancio alla prospettiva della soluzione a due Stati. Insomma è come vedete molte le materie sul tavolo, un incontro molto importante che ci ha consentito di raggiungere risultati concreti, di esplorare nuove prospettive di azione comune e sono quindi molto molto soddisfatta e so che questo sarà solo il primo di molti altri incontri. Grazie Kier, a te la parola. Thank you very much Georgia, this is my first visit here to Italy as Prime Minister, so it's really great to be here today in such a fantastic setting, fantastic weather, the perfect venue I think, to follow on from Blenheim Palace just a few weeks ago. And actually this is the first in a series of landmark meetings in Italy this week. We have the G7 Culture Ministers meeting in Napoli. We have Arsenal meeting Atalanta in the Champions League. But seriously there's so much that brings us together. But I am here today for a very simple reason, because I recognise Italy's significance as a leader in Europe, on the world stage, as a G7 economy, a NATO ally. And so as we open what I think will be a new era in Britain's relations with the EU, our close friendship and partnership with Italy is more important than ever. And that's why it was very important for me to come so early on in my term as Prime Minister as a real statement of intent. And I think we're both ambitious for what we can do together. And that spirit has come through all of our long conversations so far, not only today but on the previous occasions when we've had the chance to discuss a number of issues, but very much today. A resolve to work together for the good of the British and Italian people, for the security, stability and growth that we all want to see. And for the fundamental values that we share of democracy, justice, the rule of law. So as you say, we used our time today to discuss the global challenges before us and our determination to meet them together. Georgia, I want to thank you for your strong leadership, particularly on Ukraine, because as Russia continues to escalate its illegal war, we will stand together shoulder to shoulder to support Ukraine for as long as it takes. We will work together, as we discussed, to deliver the 50 billion euros in loans for Ukraine under your G7 presidency. And I look forward to supporting the Ukraine recovery conference in Italy next year. We also agreed to deepen our security cooperation, already very important for both of us. Our forces will continue to exercise together through NATO. The Italian Navy will join UK carrier operations next year. And with vital projects like GCAP, we're determined to work together to boost our defence industrial capacity. On the Middle East, we are united in our support for an immediate ceasefire in Gaza. We want to see the release of all hostages, desperately needed humanitarian aid flowing into Gaza, and a calming of tensions on the West Bank in particular. And of course, as we discussed, none of this is easy, but it is urgent, and it is vital. So we will keep working together to resolve this crisis and end the suffering on all sides. We also discussed the challenge of irregular migration. This is a problem across Europe, for both of our countries in particular, but across Europe. As Director of Public Prosecutions in Britain some years ago, I saw the important work that can be done across borders on issues like counter-terrorism. And I've never accepted, as we discussed, that we can't do the same with smuggling gangs. And now, of course, Italy has shown that we can. You've made remarkable progress working with countries along migration routes as equals to address the drivers of migration at source and to tackle the gangs. And as a result, irregular arrivals to Italy by sea are down 60% since 2022. So I'm pleased that we're deepening our cooperation here, led on the UK side by our new border security commander, who has been with me today here in Italy at the coordination centre this morning, to share intelligence, share tactics, shut down smuggler routes, and smash the gangs. Finally, as leading European economies, we also discussed the huge opportunities that we can realise together. Italy is already a top 10 trading partner for the UK and our sixth largest source of foreign direct investment. That all supports economic growth, which is the number one mission of this government. And there's real potential now to go forward. It was excellent to have a business event first thing this morning, when I met Italian businesses who are actually already working in the UK. And I'm really pleased to announce that we've secured two new investments worth over 500 million pounds into our economy. Leonardo investing over 400 million into R&D and helicopter manufacturing in Yeovil. And Marsha Gallia investing 100 million into green steel production in Sheffield, supporting hundreds of jobs across the country. Those are the two investment decisions I can announce today. We, of course, want to go further in key sectors like defence, green tech, science and innovation, to drive growth for both sides, create jobs and improve people's lives. Because underneath all of this, it is important to say that there's a huge affection between our two nations and between our people. great respect for each other's cultures, shared passion, shared values. So today we're building on that optimistic about what we can achieve together as strong partners, allies and friends. Thank you, Georgia. Grazie. Abbiamo quattro domande. Iniziamo con Francesco Maisano del Tg1. Prego. Salve. D'Aftonino, buon pomeriggio. Avete parlato di cooperazione per la lotta ai trafficanti. Volevo chiedere come si sostanzia questa cooperazione, in che senso il Regno Unito guarda anche al modello albanese, al rapporto all'Italia e all'Albania e anche un aggiornamento sui tempi di implementazione di questo nostro progetto. Grazie. La ringrazio. Dunque, come si sostanzia questa nostra cooperazione? Come dicevo, noi ci stiamo concentrando chiaramente, come lei sa, la strategia che il Governo italiano ha messo in piedi sul contrasto all'immigrazione illegale, è una strategia molto ampia. E c'è una cooperazione che viaggia a 360 gradi. Da una parte combattere i trafficanti di esseri umani. Su questo il lavoro che noi stiamo facendo è soprattutto un lavoro di messa a sistema del lavoro che fanno soprattutto i nostri servizi di polizia, i nostri servizi di intelligence, fino ad arrivare a ragionare un domani di rendere il più possibile armoniche le nostre legislazioni su questa materia. Il tema è che noi oggi ci confrontiamo con organizzazioni di esseri umani che fanno il traffico di esseri umani che sono molto potenti, molto lunghe. Oggi si fa un accordo con un trafficante in Bangladesh, si attraversano 5 nazioni e si arriva in Italia su un barchino. E questo offre la dimensione di quello con cui noi abbiamo a che fare. Chiaramente nessuna nazione da sola può essere efficace nello smantellare queste reti di trafficanti se non si lavora a 360 gradi, partendo ovviamente dal coinvolgimento dei propri alleati, dei propri partner, ma anche di tutte le nazioni di origine e di transito, che è il lavoro che noi stiamo facendo. Su questo noi stiamo facendo un lavoro particolare che riguarda soprattutto come far lavorare meglio insieme, in maniera più strutturata, i nostri servizi di polizia, i nostri servizi di intelligence e come coinvolgere, lo dicevo prima, meglio Interpol e Europol, cioè strutture che noi abbiamo già, che dal mio punto di vista dovrebbero avere proprio delle sezioni dedicate a questa materia. Chiaramente sono temi che bisogna discutere anche con tutti gli altri partner, ma questa è la discussione che stiamo facendo da una parte. Dall'altra lei sa che c'è tutto il lavoro in termini di cooperazione con i paesi africani, che è anche un lavoro che interessa ovviamente anche il Regno Unito, sul quale stiamo cercando le sinergie che partono anche, ricordo, dal G7 dei leader, dalle iniziative con le quali abbiamo messo insieme, da una parte il Piano Mattei, dall'altra il Global Gateway dell'Unione Europea e dall'altra il PIIG del G7, per capire come questa nuova cooperazione con i paesi africani possa mettere anche qui a sistema il lavoro che le singole nazioni fanno. C'è un lavoro, come dicevo, concreto che facciamo sui rimpatri volontari assistiti, particolarmente in questo caso c'è un impegno britannico che si è già materializzato per i rimpatri volontari assistiti dalla Libia, quindi è anche un lavoro che serve a cercare soluzioni per anche aiutare le nazioni, soprattutto del Nord Africa, che altrimenti rischiano di essere lasciate da solo, di fronte a flussi che arrivano anche da altre nazioni. Quindi è un lavoro a 360 gradi. Albania, io chiaramente ho visto molto interesse da parte del Primo Ministro, ma poi questo credo che ovviamente nel caso dovrebbe dirlo lui, sicuramente il modello che il Governo italiano ha immaginato di centri per processare le richieste di asilo degli immigrati che sbarcano sotto giurisdizione italiana ed europea in un paese straniero, è un modello che non era stato sperimentato da nessuna parte. Se funziona, tutti come io credo funzioni, tutti capiscono che può diventare una chiave di volta per affrontare in maniera diversa il tema dei flussi migratori, anche per l'elemento di deterrenza che produce rispetto a farsi, diciamo, affidarsi alle organizzazioni dei criminali. E' anche la ragione per la quale, come lei sa, come tutti sapete ormai stiamo lavorando a questo progetto con estrema serietà, il che richiederà, da quello che ho capito, ancora qualche settimana perché sia perfetto. Però, guardi, come ho detto già in passato, avrei preferito che iniziasse prima, però so che abbiamo, diciamo, gli occhi del mondo puntati giustamente su questa iniziativa e quindi credo che debba essere fatto nel migliore dei modi. E se serve qualche giorno in più, come non mi dispiaceva qualche settimana fa, non mi dispiace neanche adesso. Però credo che, insomma, parliamo dell'ordine di qualche settimana. Bene, abbiamo Alex Forsyth della PPC. Thank you very much. Keir Starmer, on migration, you say that you're interested in the Albania scheme. Can you be clear, how seriously are you looking at the prospect of sending migrants to other countries for their claims to be processed? And are you entirely comfortable with every aspect of Italy's approach, given the human rights concerns that have been expressed? And to Prime Minister Maloney, was there a single piece of advice you gave Keir Starmer when it comes to tackling this issue? And what do you say to those who accuse you of human rights violations when it comes to migrants? Thank you. Let me try to bundle both the answer to the previous question and the answer to that question up together. Look, what we discussed today is a common challenge, which is irregular migration. And we discussed in particular law enforcement on the one side, how do you deal with this by collaborating, cooperating, sharing data, intelligence, etc. But also the prevention piece. And that's why I had the new Border Security Commander with me today at the Coordination Centre, so we could look at where we can do even more closely related work on enforcement. Sharing our data, sharing our analysis, sharing our intelligence and sharing our strategies. And in relation, we discussed the Albania arrangement, which isn't up and running yet, as you know, and therefore we don't yet know the outcome of it, but we discussed the concept of it, along with the prevention piece as well, because the numbers here, as I've said, have gone down quite significantly. That's actually not attributable, of course, to the Albania scheme, because that hasn't started. That, in my view, is more likely attributable to the work that the Prime Minister has done upstream, as it were, with some of the countries where migrants are coming from, and the particular details and the approach that's been taken. I've always made the argument that preventing people leaving their country in the first place is far better than trying to deal with those that have arrived in any of our countries, so I was very interested in that. And in a sense, today was a return, if you like, to British pragmatism. We are pragmatists, first and foremost. When we see a challenge, we discuss with our friends and allies the different approaches that are being taken, look at what works, and that's the approach that we've taken today, and it's been a very productive day. Per quello che mi riguarda, non so a quali diritti umani, alla violazione di quali diritti umani lei si riferisca francamente, perché mi pare di aver ampiamente spiegato che la giurisdizione nei centri che si trovano in territorio albanese è una giurisdizione italiana ed europea, quindi o lei ritiene che la giurisdizione europea sia una giurisdizione che viola i diritti umani dei migranti, oppure purtroppo questa accusa non trova fondamento. Cioè, quello che noi abbiamo fatto con l'Albania significa che questi migranti avranno esattamente lo stesso trattamento che avrebbero avuto a Lampedusa, per intenderci, o in qualsiasi altro hotspot italiano, solamente in una porzione di territorio che non si trova in Italia. Perché? Perché, punto primo, questo ci aiuta a decongestionare una situazione che in Italia è, come voi sapete, difficile, essendo ovviamente la porta d'ingresso d'Europa, e abbiamo visto quello che è accaduto negli scorsi anni, e perché pensiamo che, diciamo, garantendo la piena tutela, la piena realizzazione della giurisdizione italiana ed europea, nessuno possa dire, visto che ci sono le nostre forze di polizia, ci sono i nostri giudici, ci sono le nostre leggi, ci sono i nostri modelli. Quindi, ripeto, o si sta sostenendo che la legislazione italiana ed europea è una legislazione che viola i diritti umani dei migranti, oppure non si può sostenere che quello che l'Italia fa con l'Albania viola i diritti umani dei migranti. Francesco Olivo, del quotidiano La Stampa. Buonasera, provo a farmi capire in italiano. Volevo chiedere al Presidente Meloni la sua opinione sull'utilizzo delle armi occidentali in territorio russo, da parte dell'esercito ucraino evidentemente, e la sua opinione sulla legittimità o meno della offensiva ucraina nella regione del Kursk. Invece del Primo Ministro vorrei sapere, volevo chiedere lo stato di avanzamento del progetto di dare il via libera a dei missili di lunga cittata verso il territorio russo e che cosa pensa della risposta del Presidente Putin che è stata molto dura, che ha evocato la possibile utilizzo di armi nucleari dicendo che la pazienza è sostanzialmente finita. Grazie. Allora guardi, per quello che riguarda le mosse dell'Ucraina, chiaramente per noi è importante che Kiev costruisca le migliori condizioni possibili per un tavolo di pace. È quello che noi abbiamo fatto aiutando l'Ucraina dall'inizio e quindi quello che ritiene di fare e quello che riesce a fare per garantire le condizioni migliori possibili è benvenuto. Per quello che riguarda il tema dell'autorizzazione ai missili di lungo raggio, chiaramente queste sono decisioni che prendono le singole nazioni, i singoli paesi che forniscono questi armamenti anche tenendo in considerazione quelle che sono le loro legislazioni di riferimento, la loro Costituzione. In Italia, come voi sapete, questa autorizzazione oggi non è in discussione ma sono tutte decisioni che noi condividiamo ovviamente con i nostri alleati. Lo dico semplicemente per dire che non va letto come invece mi è sembrato che in alcuni casi si facesse come un indietreggiare rispetto al sostegno all'Ucraina. E del resto, quando il Presidente Zelensky è venuto in Italia non più tardi di due settimane fa, ha detto non chiediamo all'Italia nulla di più di quello che sta già facendo, ben sapendo che l'Italia sta facendo per sostenere l'Ucraina a dispetto di quello che delle volte sento dire il massimo che può fare. Chiaramente ognuno ha i propri riferimenti per prendere queste decisioni e noi abbiamo preso la nostra. Ma penso che si veda e si continui a vedere a 360 gradi come l'Italia, il sostegno italiano all'Ucraina sia un sostegno a 360 gradi che andrà avanti fin quando è necessario che ci sia quel sostegno. E anche questa posizione, sempre a differenza di quello che ho letto a volte, è una posizione perfettamente condivisa anche all'interno di tutta la maggioranza di governo. Thank you. On this question, I think it is important for us to start from the fundamental position, which is that this is an illegal war started by Russia. And as a result, Ukraine has the right to self-defense. And we have all, Italy, the UK and other allies, NATO allies in particular, been standing with Ukraine in defense of her right of sovereignty, of self-defense and as a recognition that this isn't just a war in Ukraine. It's a war against the values of democracy, of freedom and the rule of law, which apply to all of us in our respective countries, but across all of the allies. And that is why we've supplied capability, we've supplied training, we've supplied money, and there are further commitments that have been made recently in relation to all of those. And, you know, I think it's very important as a matter of principle that we put Ukraine in the best possible position. And that's what we've been discussing. We've had the opportunity today to touch on that. I had the opportunity in recent days to touch on that. I'm not going to go into individual capabilities. You wouldn't expect me to do that. But the principle framework, I think, is absolutely right, and we'll continue to have our discussions in relation to it. We have Matt Dayton from the Times. Thank you very much. Matt Dayton from the Times. Just a follow-up on Ukraine. You both said, you both talked about your support for Ukraine. Prime Minister Maloney, are you worried that authorizing the use of long-range missiles against Russian targets may escalate the war to such an extent that Russia may attack a NATO member? And to Prime Minister Starmer, on immigration, your predecessor repeatedly said he would stop the boats. You've not done the same. Does that mean you're just being more realistic and you don't think or it's not realistic to expect the boats to stop completely? And very quickly, will you carry on taking gifts from Lord Ali? Let me deal with my side of that first. Look, we've moved from a government of gimmicks to a government of pragmatism. And that means that I'm utterly focused on what I think is the the most likely deterrent and effective way of dealing with unlawful migration. And that is to take down the gangs that are running this vile trade. Of course it's a problem when we've got people arriving into the UK who are arriving unlawfully across the channel or any other route. And of course every government has the responsibility of making sure our borders are secure. But rather than a gimmick, which, as you know, cost 700 million pounds to persuade four volunteers to go to Rwanda, we have gone down the road of pragmatism. Already we have returned over 3,000 people by flights. So the flights actually did get off under this government, not to Rwanda, but back to countries of origin, carrying with them 3,000 people who shouldn't be here, including the single biggest flight that has ever taken off, returning people to their country of origin. And that's why we're working so intently on the border security command, which is intended to take down the gangs that are running the vile trade in the first place. It's also why I'm very interested in the work that the Prime Minister here in Italy has been doing in terms of upstream work in the countries that people are coming from, which, on the face of it, appears to have had quite a profound effect on irregular migration into Italy. And that's what this is about. It's about the politics of pragmatism. The British are very good at pragmatism. It's what we're known for over the years, which is seeing a problem and actually rolling up our sleeves and thinking through which is the most effective way to deal with it. Under the last government, in my view, we had a gimmick that didn't work and cost an absolute fortune. We're not interested in that. In relation to your question about gifts, look, the rules are absolutely clear in relation to gifts in terms of the declarations that need to be made. I said before the election, I say again after the election, the rules really matter in terms of declarations. That's why my team reached out for advice on what to declare from the relevant authorities. They reached out again, more recently got further advice, and hence the declarations have gone in in accordance with the rules so that it's transparent. and you can all see, according to the rules, exactly what declarations were made. But it was because I insist on the rules that my team reached out to make sure that we were declaring in the right way under the rules and then reached out again to the appropriate authorities, basically asking for advice about what's the appropriate way to deal with this in accordance with the rules. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God. Thank you very much. ogni giorno, chiaramente richiede molta prudenza, anche se poi dobbiamo anche dirci che anche quando questo non accade, non si prende in considerazione, noi abbiamo visto nei mesi passati ospedali oncologici che venivano bombardati senza pietà, che è la ragione per la quale il lavoro che ha scelto di fare l'Italia è un lavoro soprattutto di difesa della popolazione civile, cioè noi ci siamo concentrati moltissimo soprattutto sulla difesa antiaerea, abbiamo offerto all'Ucraina un primo SMPT, come lei sa e come si sa stiamo lavorando velocemente con un lavoro importante per andare avanti su questo lavoro, credo che questa oggi sia la cosa più preziosa da fare ed è il lavoro che ha fatto l'Italia e credo che venga ampiamente riconosciuto dai nostri amici ucraini e venga ampiamente riconosciuto da tutti i nostri partner, per cui questa è la linea che abbiamo scelto di portare avanti e che stiamo continuando a portare avanti facendo anche sforzi che sono molto significativi. Bene, grazie a tutti, buon pomeriggio, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie.